Studio 7, in collaborazione con Sport e Piceno Game, presenta l'intervista di Pietro. Il 13 febbraio, per il secondo anno consecutivo, Radiospeaker.it organizza il World Radio Day. La giornata mondiale della radio istituita dall'UNESCO. I più grandi big delle radio italiane, uniti per festeggiare il mezzo di comunicazione più amato di sempre. Domenica 13 febbraio, dalle 10 alle 18, vai su WorldRadioDay.it e segui l'evento online. WorldRadioDay.it, anch'io amo la radio. La prima domanda è molto canonica, perché a noi ci permette di conoscere un po' il personaggio che abbiamo davanti e poi parliamo di tutti i progetti che ci sono dietro. Chi ha Adriano Matteo? Allora, Adriano Matteo è un ragazzo pugliese di Foggia, che da un anno vive a Milano e, diciamo, di base, collabora, parlo in terza persona ma torno a parlare in prima, collaboro con Radiospeaker.it come giornalista e come tecnico del suono. Sono giornalista, pubblicista, scritto all'albo appunto dei pubblicisti della Puglia e in più ho fatto studi come tecnico del suono con un master all'Università di Tor Vergata in Ingegnere del Suono e quindi collaboro anche dal punto di vista tecnico per tutto quello che c'è a livello tecnico dentro Radiospeaker. Prima di Radiospeaker collaboravo in diverse emittenti radiofoniche locali e non solo, anche per quanto riguarda tanti eventi live e tournee di tutti i tipi, quindi anche fonico live. Questo è un piccolo riassunto su chi è Adriano Matteo. A questo punto parliamo della giornata più importante dell'anno in questo periodo che è il 13 febbraio che c'è la giornata dedicata mondiale della radio. Giornata mondiale della radio. La radio non muore. E soprattutto come si svolgerà questa giornata? Allora, no, la radio per fortuna è il mezzo più longevo e che ha sempre resistito a tutto quello che è venuto dopo la radio, quindi la televisione, l'internet eccetera. E per questo noi festeggiamo la giornata mondiale della radio che è poi una giornata istituita dall'UNESCO ormai 11 anni fa e che noi abbiamo deciso di festeggiare a livello nazionale in Italia con Radiospeaker.it con un evento online così come abbiamo fatto anche l'anno scorso. Quindi avremo 8 ore di diretta streaming. Chiaramente visto il periodo sarà tutto in collegamento ma speriamo di poter tornare in presenza appena possibile. 8 ore di diretta sui canali social di Radiospeaker.it e su www.worldradioday.it in cui interverranno i più grandi personaggi radiofonici d'Italia e non solo, anche rappresentanze di radio locali, web, universitarie per parlare di radio e soprattutto parlare di quelli che sono i temi lanciati dall'UNESCO per la giornata mondiale della radio 2022. Quest'anno in particolar modo si è scelto radio e fiducia quindi la fiducia che c'è proprio da parte degli ascoltatori nei confronti delle radio. E viceversa anche noi faremo queste 8 ore di diretta un po' come abbiamo fatto l'anno scorso e in questa maratona parleremo di questo e tanto altro tutto quello che è ruota intorno alla radio anche per festeggiarla proprio e vogliamo che magari non sia un solo giorno la festa della radio ma sia tutto l'anno. Abbiamo visto tanti nomi di personaggi che saranno ospiti più o meno importanti ma chiaramente fa riferimento a personaggi nazionali 105 e tanti altri come compreso lo Zoo. Sì, ci sono... Allora, quest'anno abbiamo quasi 50 ospiti nazionali, locali, web tra cui grandissimi nomi come hai citato tu Marco Mazzoli dello Zoo 105 Nicola Savino, Linus di Radio DJ Francesco Facchinetti sempre di 105 Il Trio Medusa di DJ ma anche Federica Gentile di RTL 125 Gio di Cecchetto, Simone Palmieri Radio Z Buzz o Ciccio Valenti di RDS Insomma, sono veramente tantissimi nomi saremo qui venti minuti a parlarne perché sono veramente tanti tanti nomi ma poi avremo anche delle realtà universitarie per esempio, cito Radio Cusano delle realtà web, cito Radio Godot di tante realtà locali e interregionali ci sono Radio Norma, Radio Bruno, Radio Company quindi comunque la radio sarà proprio festeggiata al 100% e avremo modo di parlare anche di questo quindi quanto la radio sia importante per gli italiani, per gli ascoltatori e quanto sia rimasta un punto fermo un punto cardine nella vita di tantissimi italiani e questo è fondamentale Secondo te, da quando hai iniziato a sentire la radio per farla ad oggi in realtà cosa è cambiato nel mondo della radio? O cosa non è cambiato? Beh, diciamo che negli ultimi anni la radio è cambiata tantissimo perché come ha fatto anche tanti anni fa quando è arrivato alla televisione o quando è arrivato l'internet la radio ha dovuto adattarsi a quelle che sono poi le necessità degli ascoltatori oggi la radio è presente multipiattaforma quindi è fondamentale che oggi la radio non si ascolti solo in FM ma sia presente anche in dub, in digitale, eccetera ma soprattutto su internet che le radio devono essere presenti online anche se sono radio web nazionali devono essere presenti online con la possibilità di fruzione dei contenuti attraverso i podcast quindi ci sono tante piccole cose che magari uno ignora perché uno immagina la radio sempre come accendo la radio ascolta un programma in diretta però c'è tanto altro voglio fare un esempio che non riguarda più tanto la radio ma fa capire un po' il concetto Sanremo in questi ultimi giorni è stato seguito da un nuovo tipo di pubblico è stato seguito da tantissimi giovani che hanno potuto seguirlo soprattutto grazie a internet soprattutto grazie alle piattaforme ecco, questo discorso è un po' parallelo così come è successo per Sanremo che è anche un evento televisivo ma anche la radio acquisisce un nuovo pubblico grazie a quelle che sono le nuove piattaforme la possibilità di fruizione ovunque praticamente della radio attraverso lo smartphone, internet, le app comunque nel genere la radio è cambiata anche perché una volta ci si ascoltava soltanto la musica poi con le nuove regioni nuove pettaforme Spotify, YouTube hanno cambiato ad ascoltare adesso prende dal famoso detto ascoltiamo la musica ed un'altra radio nazionale diceva la radio fatta di parole ovviamente la radio sta diventando fatta di parole cioè la gente tenta ad ascoltare più i discorsi, i programmi parlati che ascoltare la musica perché poi se la seleziona sul proprio telefonino come vuole sì, sì, questo è vero questo è vero ma è anche vero che la radio di flusso quindi la radio solo musicale insomma quella che tra una canzone e l'altra ci mette al massimo un minuto e mezzo di parlato continua ad esistere e continua a funzionare perché? perché è anche bello io diciamo che su Spotify posso scegliere una playlist un genere Spotify sa cosa mi piace e mi propone cose, musica in base a quello che mi piace ma è anche vero che così facendo l'algoritmo che rimane comunque un algoritmo non mi darà la possibilità di uscire troppo dai ranghi di conoscere musica nuova invece la radio sì la radio non mi fa scegliere la musica non più di tanto ma ma mi dà la possibilità di scoprire tante cose nuove oppure di ascoltare un qualcosa che magari io avevo dimenticato e quindi farmi tornare alla memoria alcuni ricordi che Spotify dieci anni fa non conoscendomi perché non esiste o meglio esisteva ma io personalmente dieci anni fa non lo usavo non sapeva non sa che io all'epoca magari potevo ascoltare quel tipo di musica lì è chiaro che la parola è fondamentale nella radio e molte radio si stanno adattando cercando di far aumentare il parlato dare più valore alla parola ma è anche vero che anche questo viene sovrastato dai podcast se vogliamo quindi c'è un rivale per entrambe le tipologie di radio che secondo me sì è pericoloso ma è anche più di tanto perché ricordiamoci che la radio ha una particolarità che è la diretta e quanto è importante a questo punto parlare radio soprattutto per la musica dei giovani ma soprattutto per i giovani artisti perché si segnano poco ultimamente giovani e beni sconosciuti parliamo non di personaggi che vengono alla ribalta nazionale quanto effettivamente serve? beh la radio è stata anche questo negli anni e per fortuna oggi tantissime radio danno spazio ai giovani anche realtà nazionali musica nuova c'è da dire che se a Sanremo in questi ultimi due anni abbiamo ascoltato artisti giovani sconosciuti perché così è dobbiamo ringraziare anche la radio perché Amadeus è un ex radiofonico un grande amante della radio e lui stesso ha detto di aver scoperto questi artisti in alcune radio anche nazionali ma che trasmettono musica un po' più ecco giovane possiamo dire la radio è sempre stato questo nel senso che anche quando io probabilmente non ero ancora nato so attraverso i racconti di chi è più grande di me dei miei genitori eccetera che tanti anni fa la radio faceva anche questo promuoveva gli artisti è chiaro che grandi network hanno la necessità di di trasmettere un certo tipo di musica ma è anche bello questo che ci sia diversità fra i tanti generi e che qualcuno si dedichi anche ai giovani vogliamo ricordare che il grande successo di Vasco è partito che la sua pubblicità è partita dalle radio locali esatto 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 vasco tra lui stesso a Sanremo non ebbe successo arrivò ultimo e penultimo l'anno dopo però insomma possiamo dire sappiamo che poi è diventato quello che è grazie a tutto quello che c'era tutte le radio locali che c'erano dalle sue parti Vasco Rossi era speaker radiofonico faceva quindi possiamo dire che si è pubblicizzato da solo e a questo punto ritorniamo un po' sul Radio Day che cosa abbiamo dimenticato in questo caso riguardante l'intera giornata perché sarà sarà una maratona più che una diretta sarà una vera e proprio maratona radio video televisiva sì esatto saranno otto ore di diretta il 13 febbraio 2022 domenica dalle 10 alle 18 con tante piccole interviste a tantissimi radiofonici italiani e non solo perché posso dire c'è anche qualche ospite dall'estero questo lo anticipo perché possiamo dire che ci sono tante anche radio italiane all'estero che trasmettono la nostra musica le nostre voci eccetera e ci alterneremo in tante interviste a cura di Giorgio Tecclesia che è il fondatore di RadioSpeaker.it ma ci sarà anche la mia voce la voce di Giulia Bullaci insomma vedrete veramente tante cose tante curiosità che scopriremo perché adesso stiamo preparando un po' i contenuti di quella giornata e stanno fuoriuscendo cose interessanti non mi voglio anticipare nient'altro perché poi è tutto da scoprire allora ricordando che anche noi trasmetteremo l'evento su Studio 7 a questo punto noi ci salutiamo beh allora un grande saluto a tutti voi a tutti gli ascoltatori soprattutto Piceno Game presenta l'intervista di Pietro il 13 febbraio per il secondo anno consecutivo Radiospeaker.it organizza il World Radio Day la giornata mondiale della radio istituita dall'UNESCO i più grandi big delle radio italiane uniti per festeggiare il mezzo di comunicazione più amato di sempre domenica 13 febbraio dalle 10 alle 18 vai su worldradioday.it e segui l'evento online worldradioday.it anch'io amo la radio a presto o o o o o o Grazie a tutti.